Ospiti. Ospiti, ce ne sto parlando io. Non rompere il caso. Comunque qui abbiamo il caro e vecchio Wargaming Italia che è tornato dai meandri del Tartaro. E abbiamo Sbunfy che sbuffa dappertutto. Oggi una custom map scelta da lui. Canis Abusus. Nessun pensiero negativo. Anzi, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, questi pensieri perversi li avete fatti, possiamo iniziare. Si, dai, il buon figlio passa subito il fatti. Vaffanculo. E a me sai che devo andare a mangiare i belli del live. Caricamento incosso. Tu non mangi, tu vivi d'aria. Tu vivi d'aria. Cerchiamo di ritardarla. Tu mangi le mosche tipo le rane allunghi la lingua. No, grazie. Allora, se prendo paura, io parto gli insulti al c***o con lui che mi ha consigliato la macchina. Vai, vai. Ma mi devi darmi una messa allora? Si. Hai volume, hai messo volume? Ovvio, sono le cuffie, cosa vi sento col c***o? Bella. No, perché se puoi attivare il volume di Skype e disattivare quello di Amnesia. No, no, no. Ovvio. Ok. Partiamo malissimo. Perché? Un messaggio. Ok. Ok. C'è una casa. Da che mi hanno spinto? Io non mi girerò mai, eh. C'è una porta. Perché tutti zitti, ragazzi? Non fatemi... Dio criceto! Allora, era Cerbero quello. Ah! Minchia! Ce lo sai, quando l'ho fatta io questa costume qui sono venuta ad osso. Buongiorno! Ok. Buongiorno! Buongiorno! Creatore della mappa, ma perché metti sempre le porte che quando le apri si chiudono da sole? Ma perché? Buongiorno, posso passare? Grazie. Apri a piano. Rieccomi. Non vedo... Un vaso! C'era un vaso. Dai, gioco anch'io da Mnesia. Mio PC non lo supporta a Mnesia. No, c'è una mela per terra. Neanche il mio lo supporta, però stranamente me lo supporto. Ok, intanto io mangio una mela. Cacciarino. Io metto tutta la qualità in bassa. Ragazzi, non toglietevi... Non togliete l'effetto di questa mappa parlando di minchiate. Storia personale. Canis Abusus. Dai, perfetto. Cioè, adesso ci gioco anch'io, eh. Va bene, almeno non soffro da solo. Eh beh. Ok, c'è una porta. Che si apre dalla parte sbagliata, ovviamente. No, 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 io qua non entro se non si apre tutta la porta. Ok, lasciamo l'aperta. Io continuo a non vedere un... ...cazzo di cane. Forse è anche meglio che non vedo un cazzo di cane. Una lettera. Don't forget to feed the dog. Parli di cani. Un piatto. Non feed the dog. Non feed the dog. Io sono davanti alla casa, ve lo dico, eh. Devo ancora andare nella porta. Perché è uscito in un minuto dall'armadio? Perché sì. Ma io torno un attimo indietro. Ho sempre paura di lasciare qualcosa al caso. Vado, ma non si vede un cazzo in sta mappa. Una lanterna. Oh, c'è un baule. Ecco la lanterna, appunto. E anche l'olio. Ma dai che sei? Che punto sei te? Ho preso adesso la lanterna. Perché? Si prende una lanterna a un certo punto. Da subito si prende la lanterna. Qua è chiuso. Qua c'è una scala. Saliamo sulla scala. Mi sono perso qualche dettaglio, allora. Tanti dettagli. Ok. Che cazzo è sto rumore? Oh, una pozione di sanità mentale. Mi gusta. Qua c'è una piccola robetta d'olio. Qua c'è un utile vaso che rompiamo tanto per il gusto di farlo. Battles. Ok, abbiamo tante possibilità. O andiamo di là, o andiamo di là. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Sangue. Una donna con l'amministrazione è passata di qua. Ma non è che la donna con l'amministrazione? Cazzo. Qua non c'è un... Oh, ma io mi sono bloccato... Attacchi dal cazzo. No, mi sono bloccato. No, seriamente mi sono bloccato. Stefano! What are you doing here? Hello, putty. Oh no, you are not putty. Fuck you, bitch. Ok, la... C'è una di quelle cose che di solito quando ti avvicini fanno... Buuuu! Cosa che fanno? Ah, quello che hanno appena fatto. Hanno fatto... Buuuu! Ho raccolto della carne. No, aspetta. Non ti gridavano fuaa. Sì, insomma, quelle... Hai presente quelle cose lì con le spine dentro? Sì. Ok, intanto io continuo a rompere i vasi perché sono un tempi... Perché c'è una porta chiusa a un certo punto? Sono io il regista qua. Sono io quello che sta registrando. Di quello che stai facendo tu. A nessuno importa. Un cane. Perché ho sentito un cane dietro di me? Perché c'è un cane. Ok, don't feed the dog. Io metto la carne e devo dover fidare il cane. Feed the cane. Oddi! Criceto, 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 criceto. Perché non ti piacciono i criceti? Ok, proviamo a tornare indietro. Tornare indietro vuol dire andare verso morte certa. Forse. Ok. Perché sono tornato indietro? Se non lo sei dentro. Se non lo sei dentro. Se non lo sei dentro. Ok, avete visto ultimamente quel cane? Sì, su Skype l'abbiamo visto. Ha fatto la webcam e poi l'abbiamo visto. Ok, ripeniamo il cane. Oddio santo, via, 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 via. È uno di quei cani di Resident Evil. Sono i nuovi mostri questi. I nuovi mostri. Il nuovo mostri. Perché devono sempre urlare con dentro in una stanza? C'è cane. Che bruttisti i cani, minchia. Perché se non urlano poi non sono felici, poverino. C'è una padella. Mangia. Olio. 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 Maiali. E qui che cazzo dovrei fare io? Un pozzino di sanità mentale. E qui cosa ripeto, cosa dovrei fare? Cioè l'unica roba da fare è andare in quella stanza dove c'è quel cane? Lì devi andare. Sì, ma c'ho il cane davanti a me. Non mi frega. Non posso tornare indietro. Ok ragazzi mi sa che dovrò sfidare quel cane Ha una gara di Uccidilo, prendi i barili, sbattigli in testa Ok sfidiamo il cane Non dovevo sfidare il cane Guarda se muori Nido come un pazzo Ok La musica di riseguimento continua ma non mi sta seguendo Una chiave Allora, veniamo un po' La ferita sta sanguinando moltissimo Il mio personaggio sta per schiattare Allora, calma Ragazzo mio Personaggio mio So che c'è un cane incazzato nero che ti stai seguendo però Potrebbe andare peggio Un cane incazzato Dice che Norris potremmo inseguirti Addirittura poi dice Afrofi Sarebbe molto peggio Che un cane incazzato normale Ho sbaglio Ovvio Da che continua la musica di riseguimento quando nessuno mi sta inseguendo? Vabbè, usiamo la chiave Sapessi Ma è un cane vivo o quello è un cane buggato soltanto? Ah, è un cane vivo Mi sta inseguendo? Mi sta inseguendo Una buona bottiglia di vino In faccia al cane Vabbè, mi sa che questa mappa è abbastanza buggata ragazzi Come hai detto tutti quanti i cani Si incastrano! Si incastrano Si incastrano Devi portare il mio cervello Loro Ah, riparto da fuori da casa Ma ho tutto quanto Si, olio Ok Ripartiamo da fuori dalla casa Yes, I do No, I don't No, you're two idiots Yes, I can No, you can Forse non devo dirlo questo Adesso segnalo il cane Allora, di uno che si chiama Shade Video Game No, aspetta Aspetta Eh, vado a leggere per cosa si può segnalare Per tutto si può segnalare Non dimmi che il cane è ancora lì Adesso, si, lo faccio Segnalo il video L'ultimo tuo video Allora, lo fa vedere Segnala Il cane se n'è andato, vero? Abuso di minori Abuso di minori Boh, so che utilizzare War Qualche nudi Di nudità No, lì puoi segnalare veramente tante rovet Scene di sesso esplicite, vai No, quelle non ci sono Fortunatamente Dai, minuti Ok, ho superato la prima parte del Di questa mod Che si pronuncia Un Casino Ah, tre petto Smelly Ma ti can hear everything Oh, caricherò subito il video Lo voglio vedere No Questa qua è la seconda Forse prima caricherò Boh Tanto finisco in Nintendo Poi forse ho carico questo Ho carico Ok, io vado a mangiare Ci vediamo fra non so qua Ok, tra qualche parte Tornerà la war Ok, saltiamo tutti quanti war Ok, ci sarà qualcuno qua dietro la porta Porte? Ma perché non state mai aperte voi? Ok Acciarino Che ovviamente non uso mai acciarini Ma signora, perché lo prendi? Perché ci sono E io li prendo Olio Olio di liva extravergine Buongiorno C'è l'Ishu Si può bucà Si, fai come un periodo di pelle Che poi si caga addosso Ok, destra o sinistra? Destra o sinistra? Sinistra Ok, destra Buongiorno Adesso non dire cosa c'è Perché mi piovono pezzi di corpo umano addosso? Ma si vede che c'è vento Può essere Queste catene Poi loro sono fra I mostri sono fragili Perciò si spezzetano Ok, andiamo a cosa c'è Dietro Un armadio Ci vengo dopo E la stanza di sinistra cosa c'ha? Eh, state solo da quella adesso Dai È chiusa Devo andare nella stanza Quella con l'armadio Bastardo Tanto non c'è niente D'entrata l'armadio Sei tranquillo Perché non mi fido? Fidati, non c'è niente E l'olio mi finisce Allora Ragioniamo un secondo Mettiamo un po' d'olio E apriamo il cassetto Che è chiuso Allora abbiamo i micro cassetti Che cazzo è un libro? Vabbè Vaffanculo libro Altro cassetto Altri libri Altro cassetto Con una piuma Una piuma Che cazzo devo fare? Speriamo un po' la stanza Non so Oh c'è una chiave qua dietro Oh Gesù Che hai fatto? Un cane gigante Vabbè Oh Scappa Non posso scappare Sono chiuso dentro la stanza Uccidilo Perfazio uccidilo Della TNT? Delle bombe? Perché ci sono le bombe? LOL Ci sono le bombe Ragazzi avete visto anche voi Ho trovato della dinamite Dentro il cassetto E non ho già tanto Intosso al cane E il cane è esploso No Troppo figo Lo devo fare anche io La faccio dopo Ok Apriamo un attimo Quell'armadio che prima era bloccato Ah si poteva anche aprire Vaffanculo Ok Cos'ho ottenuto? Un'altra chiave Ok Quel cane se n'è andato vero? Sì Cazzo che paura Ok Andiamo Non può capitarmi nulla di male A parte essere sbranato vivo Oh che bel posto Vai via Vai via Materasso Ragazzi Che sta succedendo? No si è bloccato Va un FPS Che cazzo sta succedendo? Ok ragazzi Forse mi conviene interrompere qui la parte Ci vediamo nella prossima Sperando che riesca a sbuggare Questo piccolo problema tecnico Vai vai Eccoci qua ragazzi Seconda parte Dopo un piccolo bug Come avete visto tutti Di questa maledetta stanza Infatti io non ci torno Nel frattempo anche io sono tornato Ok Ho tornato anche a guarda E questa porta L'ho soltanto spalancata io Non è Uscito niente da qui Tranquilli Oh ma io Aia Qualcosa mi ha colpito Oh Gesù C'ha fatto? Ah ti hai visto tutti vero? No C'è un cane Grande 70 volte più di me Una lettera L'unico modo L'unico modo Per sapere al cane Demone E sacrificare altre persone Ma io come cazzo Io non riesco a trovare la via di strada Sì comunque Sbuffi Un consiglio Se uno sta facendo un commentary Tu non devi commentare Non mi frega Sì infatti Non devi commentare L'avevo già detto prima ma Qua mi sa che non ci stiamo capendo Ho sempre ragione Ok allora Adesso se vado di qua Il cane mi stupra Se vado di qua Il cane mi stupra Destro o sinistra Dove volete che mi stupri Sinistra Ok vado a destra Vabbè no se è razzista Ok qua c'è sangue No è razzista veramente Ok si ho passato Vabbè gli altri ci conosceva da più tempo Ok andiamo di qua Ok vado a sinistra Ci ho ripensato Ad Sì tu doveva morire Ma a destra muori No vado a sinistra Che figata Che figata di stanza C'ha fatto Pieno di uomini nudi Mica Sentite la mia positività Tanto ormai Questo map Sono uomini nudi Ad estra e sinistra Merda 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 C'è un cane morto Anche mi sa che hanno fatto Un rave party Tutti insieme Una gangbang Gangbang party Il gay club Oh c'è una chiave Mezzo ai corpi E che vado per le rovistare Perché c'è questa persona Che si ha le gambe Sproporzionate Ma vabbè Ma come Mi porto un osso dietro E cosa te ne fai Si contro fuffi Io lancio Si figurati se ti caga con Non riesci a comprare Un fuffi con Con l'osso Ok qua ci sono Un sacco di vie possibili Abbiamo La via La via dei barrels O una porta Barrels O porta Barrels O porta 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 Eh infatti M'ha dato ragione Per la prima volta Ok la porta è chiusa Non devo più fidarmi di lui Barrels No c'è un'altra via Barrels O via sconosciuta Barrels O via sconosciuta Via sconosciuta Ok varili E poi vi è sconosciuta Ok non c'è niente di barrels Vi è sconosciuta Io sto dicendo Vi è sconosciuta anche Se l'avrebbe anticipato Basta Vi è sconosciuta She's dead E beh Mi sa che qualcuno Ha lanciato uno di quei ruti Che sta ancora tremendo il muro Lol Salute E la porta è chiusa Ah vero C'è una chiave Me lo sono dimenticato Cazzo ma di qui si esce Buongiorno Ci inizio Sono albi Si può buccare trento Che figo Ci sono le microcasse In miniatura Che figata Come le microcasse Le microcasse Le microcassine Che figata Le casse in miniatura Ok Ci sono le casse di terrario Accerina 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 Olio Mi giro Morto No 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 Stranno C'è qualcosa qui dietro Una pozione Di sanità mentale Si ma Te stai giocando tranquillamente Vero Io sono qua A giocare anche io Nella stessa Accostumato C'è una chiave Se andiamo sulla microcassa Prendiamo la chiave La chiave della Camera delle torture Non me garbo Mica tanto Ma porca traima Dio santo Dio santo Dio santo C'è un cane Non è possibile Che te ce la fai Io no Mi serve un piano Allora c'è un cane Che mi vuole stuprare Qualcuno ha qualche idea Ok allora Io direi che Apetta tu per caso All'inizio hai preso Una coscia di pollo Si Prova a dargliela Ma Ma Lasciamo stare Non commento Forse sono cento volte Più avanti di te Ma dico Forse E allora che cazzo Che di aiuto Era un aiuto Metaforico Più che altro Chiedeva War L'aiuto Ok Mi ha mangiato Scappa 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 Shen Scappa Shen C'è un cane Zombie dietro Stai tranquillo Ti stupra Si Ambi la porta No Si apriva dall'altra parte Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Oh porca troia C'è un cane sopra di me Salvo Ah su Mi sa che Banfi ancora non ha capito Come funzionano Commentari Si Stiamo commentando Tutti nella stessa Costuma E non me ne frega niente Si ma in punti diversi Così non si capisce Un emerito cazzo Non me ne è meglio Quello è bello Almeno si share Capito No I iscritti fanno questo Di iscriver Esatto Perfetto Ma da chi cane è? Dal suo Oddio No No Perché mannaia Mastro mannaia Perché vuoi che il cane mi mangi C'è Ermannaia No Ermannaia Ti prego Chi è Ermannaia? Adesso ci descrivi Sto Ermannaia La mappa è stata fatta Da Shasky Youtuber E Conor The Returns Zombie dog From resident evil 5 Thanks for play Quindi L'acustom Finisce che noi moriamo Positiva la cosa Che bello Ok Spero che questa Acustom Mi sia piaciuta Un saluto a tutti quanti Un brofist E facciamo un saluto A che stile? Che youtuber mi diamo? Imitiamo Albi Perché da te lo faccio Spero che il video Mi sia piaciuto Mi sia No 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 Spero che il video Mi sia piaciuto E Ciao 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 ciao